Allora, salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Vogliamo fare un piccolo video su un argomento molto importante che si trova in Apocalisse capitolo 2, però vogliamo iniziare, diciamo, dal capitolo 1. Tutto quello che diremo, faremo e leggeremo, lo diremo, lo faremo e lo leggeremo sempre nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo che è benedetto in eterno. Signore guida il tuo servo, Padre, con lo Spirito Santo. Signore benedici tutti quanti gli ascoltatori, Signore. Ogni cosa te la chiediamo nel nome di Gesù che tu hai benedetto e innalzato in eterno. Amen. Allora, cari amici, il libro dell'Apocalisse, che ce l'ho qua, allora, è un libro molto importante. Dice che la rivelazione di Gesù Cristo, il quale Dio gli ha data per far sapere ai Suoi servitori le cose che debbono avvenire in breve tempo. Ok, poi nel, come dire, nel verso 3 dice Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia. Interessante notare il tema delle beatitudini. L'Evangelo di Gesù Cristo, se tu ci fai caso, inizia con il termine Beato. E le beatitudini sono presenti un po' in tutto il Vangelo di Gesù Cristo, perché la beatitudine appartiene al credente. Interessante notare, no, come molti torcono le scritture, no, avvelendosi di questo termine in maniera impropria, ovvero rivolgendo, facendosi che le persone rivolgano l'attenzione a Maria per distogliere l'attenzione a quello che è il centro dell'Evangelo, il fondamento dell'Evangelo, che non è Maria, ma è Gesù il Cristo. E sottolineano il termine Beata fra le donne. Ma Beata fra le donne perché, appunto, il credente è beato. Matteo, capitolo 5, ci parla delle beatitudini. E Rivelazione, o Apocalisse, capitolo 1, verso 3, dice Beato chi legge e beati al plurale sono coloro che ascoltano le beatitudini. Quindi il termine Beato, che viene rivolto a Maria, non è un qualcosa di circoscritto a una unità, ma è un qualcosa che appartiene a tutti quanti i credenti. e catalogare la sorella Maria, sorella, è nostra sorella, amenne, come un qualcosa di superiore agli altri, è una bestemmia vera e propria. Anzi, se dovessimo, e il mio parlare è un parlare da pazzo, come disse anche Paolo, no? Se dovessimo catalogare qualcuno come superiore, questi dovrebbero, dovrebbero, ripeto, è un parlare da pazzo il mio, dovrebbero essere coloro che hanno posto il fondamento. E non Maria, Maria non ha posto il fondamento dell'Evangelo. Cos'è più grande? Il Vangelo o Maria? Cos'è più grande? La parola o Maria? E chi ha posto il fondamento dell'Evangelo? Non sono stati forse i dodici apostoli e il dodicesimo apostolo fu Paolo o non Mattia, ma questa è un'altra storia. Vedete, cari miei, i gnostici che, grazie a Dio, almeno hanno la delicatezza di ammettere che non sono evangelici. Tutte queste cose le sorvolano perché sono gnostici. Quando tu entri nel libro dell'Apocalisse, e l'Apocalisse ti mostra tre cose, l'epoca della Chiesa, la grande tribolazione sulla Terra e contestualmente quello che succede nel cielo. Quando tu vai nel capitolo 5 dell'Apocalisse, la scrittura dice, nero su bianco, che non fu trovato nessuno degno di aprire questi sugelli. E quindi Maria, tradotto, non è degna di aprire questi sugelli. Come può essere considerata regina del cielo, madre della Chiesa, come dice il Cattolicesimo, e coloro che sono cattolici pur non ammettendolo, ovvero coloro che non sono cattolici, sono gnostici, ma vorrebbero farsi passare per cattolici, pur di portare la loro dottrina gnostica, perché lo gnosticismo si sposa bene con il Cattolicesimo, perché il Cattolicesimo è di matrice cattolica, perché promuove l'uomo Dio, cioè il Papa e Dio in terra. I Santi sono gli uomini che intercedono presso i Dio. L'uomo è salvezza a se stesso? È certo, l'uomo è salvezza a se stesso perché se tu uomo paghi, perché una persona esca dal purgatorio, che non esiste, ma voi ci credete, e quindi la salvezza non sta nel purgamento dei peccati attraverso il sangue di Cristo, ma la salvezza dei peccati, quindi uscire fuori dal purgatorio, risiede nel potere dell'uomo che paga. Ecco qui che lo gnosticismo si sposa bene con il Cattolicesimo. Questo non è un dare addosso al Cattolicesimo, è semplicemente descriverlo. Il Cattolicesimo si autolesiona da solo. Questo è molto importante. Quindi i beati sono i credenti. La Chiesa, Matteo 5, parla della Chiesa. Beati voi. Non parla di una persona in particolare. Ma attenzione, perché in questo messaggio ci saranno tante verità e per tutti, cominciando dai pastori. Perché questo messaggio, uno degli oggetti principali, uno, ce ne sono tanti, ma uno di questi sono proprio i pastori. Benissimo, andiamo avanti. Giovanni ha le sette Chiese. Quindi troviamo l'epoca della Chiesa. Sono le sette Chiese, rappresentano l'epoca della Chiesa. In questi duemila anni. Alcuni parlano di sette epoche. Io lì sono ignorante, non metto bocca, non mi interessa, non voglio sapere niente di queste cose qua. Ognuno con il suo pensiero. Una cosa è certa. Le sette Chiese sono l'epoca della Chiesa in questi duemila anni. Questo è tassativo, nero su bianco, ok? Il resto io personalmente non ne voglio sapere niente. Giovanni ha le sette Chiese che sono nell'Asia. Pace, ok? Da colui che era e che ha da venire e dai sette Spiriti che sono davanti al suo trono. Lo Spirito Santo, le sette parti dello Spirito Santo, come dirà Isaia, ma questa è un'altra storia. Ok. E poi dice adesso che ci ha amati ci ha lavati dei nostri peccati col suo sangue. Quindi il lavacoro e il purgamento dei nostri peccati avviene attraverso il sangue di Cristo, non attraverso il purgatorio, non attraverso una monetina che butti nel barattolino e appena la monetina tocchi il, o prima ancora che tocchi il fondo del barattolino, l'anima esce dal purgatorio. No, non è la monetina che ti purga, che ti libera dal purgatorio o che ti libe o che ti lava i tuoi peccati, è il sangue di Cristo. E c'è i fatti, i re e i sacerdoti, no? Quindi a tutti coloro che dicono ma noi Chiesa Cattolica abbiamo i sacerdoti. No, la scrittura dice che la Chiesa di Cristo è sacerdote. Noi siamo sacerdoti. Ma per questo devi conoscere l'Antico Testamento e siamo anche re. E egli viene sulle nuvole, quindi Gesù tornerà sulle nuvole. Ok? Alcuni non credono a questo. Mi dispiace che voi non crediate a quello che è scritto. Siccome altrove è scritto che verrà su un cavallo, quindi mettete la scrittura l'una contro l'altra. A me dispiace. Io sono molto chiaro. Se una cosa è scritta, è scritta. La scrittura dice che tornerà sulle nuvole ed è una verità. Tornerà su un cavallo è un'altra verità. Le due camminano di pari consentimento. Imparate a non mettere la scrittura l'una contro l'altra. Se è scritto che verrà sulle nuvole, verrà sulle nuvole. Che poi voi non ci credete, non mi rompete il capo a me. Andate per la vostra strada. Scusate, io sono molto... A me la scrittura non mi si tocca. Ok. E quindi il Signore Gesù tornerà sulle nuvole. Poi chi non ci vuole credere non è affare mio. Io sono Alfa, io sono Omega, io sono il principio, io sono la fine, dice il Signore che è, che era e che ha da venire. Sono l'Onnipotente. E quindi dice che Giovanni era nel giorno del Signore, che è l'Apocalisse, la grande ribolazione che lui la vide, egli fu rapito in cielo. E egli si trovava nell'isola di Patmos, incarcerato, vecchio, quando ormai sembra che tutto sia finito nella tua vita, che il tuo ministerio sia finito, che il tuo compito sia finito. Se veramente siamo figli di Dio, Dio è il primo e l'ultimo e se Dio apre nessuno chiude. e Giovanni, in quella condizione, vecchio, carcerato, non poteva fare niente umanamente parlando, fece una delle cose più grandi che siano mai state fatte, scrivere l'Apocalisse. L'Apocalisse è uno dei libri più importanti di tutta quanta la Bibbia. È talmente importante che milioni di evangelici lo temono e scappano da lui. E dice il Signore a tutti quelli che hanno questo atteggiamento nei confronti dell'Apocalisse, dice il Signore, nella sua parola, siete dei codardi, siete dei vigliacchi e siete mancatori di fede. Perché la scrittura dice beato chi legge questo libro, il Signore vi sta rimproverando, perché non leggete l'Apocalisse e chi ha insegnante di Bibbia e non la insegna, dice il Signore, hai di te, ravvediti, adesso parleremo, perché questo libro è stato indirizzato a una chiesa, a sette chiese, ma oggi parleremo di una chiesa. Ah, e parleremo anche dell'epoca patristica. Ravvediti, mettiti in riga col Signore. Il Signore non ti ha chiamato a parlare di un solo verso, di una sola lettera, il Signore ti ha chiamato a portare la sua parola e la sua parola non può camminare in maniera circoscritta, ma deve camminare nell'unità della sua complessità. Salmo 119. Poco fa stavo dicendo a qualcuno, veramente io ho un modo di parlare e di predicare un po', che non piace molto, ma mi dispiace, io non intendo cambiare. Dal momento in cui non è peccato, io sono molto diretto. a chi non piace, io per me posso rimanere da solo, ma io continuo su questa riga. Quello che è bianco è bianco, quello che è nero è nero e per me non ci so vie di mezzo. E qui dice una grande cosa, ci sono sette candelabri e sette stelle e dice che i candelabri rappresentano la Chiesa di Gesù Cristo e dice un'altra cosa, che le sette stelle sono i sette angeli di Dio e gli angeli sono i messaggeri, sono i pastori della Chiesa. Alcuni dicono che tutti in una Chiesa di 20, 30 anime ci possono essere dieci pastori a quelli che dicono certe cose. e se Dio ti, quando il Signore mette un pastore in una Chiesa, quel pulpito l'ha dato a quel pastore, non lo ha dato a un altro e se un altro ambisce al pastorato che vada a lavorare altrove e non metta i piedi dove il Signore ha messo un pastore, se ci sono mille persone si necessita di più anziani, più pastori e più ministeri, siamo d'accordo, ma deve essere il Signore, il ministerio non inizia senza il battesimo dello Spirito Santo che si concretizza solo con le lingue. Atenzione alla dottrina latinoamericana che vuole essere inserita qui in Italia. Ora ve lo dico in spagnolo che ci sono molti latinoamericani che mi seguono. Escuchami bene, muerto Gigi Avila, todos se llenan la boca di suo nome, però molti di sus seguidores e sus discípulos che si llenan la boca di Gigi Avila, di Gigi Avila, di Gigi Avila, están negando che il Signore bautizza in il Spirito Santo e che tutti hanno il Spirito Santo senza parlare in lingue, questo viene del diablo, il Signore reprende il diablo. questo qui in Italia è un messaggio indirizzato ai latinoamericani qui in Italia. Ok? Senza le lingue non c'è battesimo di Spirito Santo. Senza le lingue tu non sei battezzato di Spirito Santo. Sei nato di nuovo, hai lo Spirito di Dio, sei salvato, ma non hai il battesimo e non ti inventare nessun ministerio. Tu non sei nessun ministro, evangelista, pastore, dottore, profeta, missionario o apostolo, come tu lo voglia chiamare, sono missionari. Tu non hai nessun ministerio se non hai il battesimo dello Spirito Santo. Dopo il battesimo dello Spirito Santo se il Signore ti dà un ministerio allora ce l'hai se Dio te lo dà. E quindi ci sono sette chiese, sette stelle, sette pastori e questi pastori il pastore è il messaggero di Dio nella chiesa locale dove lui sta lavorando, dove lui è stato messo. Grande responsabilità e dice la scrittura che i pastori stanno nella mano dell'agnello. Se tu sei un pastore e sto parlando ai pastori veri quelli messi dallo Spirito Santo quelli costituiti da Dio quelli mandati con chiamata vera reale tu sei nella mano dell'agnello. Cosa preziosa sei cosa particolare sei ma grande responsabilità c'è grande responsabilità perché scritto è che usceva una spada dalla sua bocca e dalla sua bocca usciva questa spada e questa figura ci mostra come la favella esce dalla bocca dell'agnello e sulla sua mano ha tutti i pastori che ricevono questa parola che la devono dare al greggio grande responsabilità e se tu sei nelle mani di Dio grande responsabilità ma grande benedizione cosa ti colpirà tu io noi la chiesa di Gesù Cristo non deve temere tu non devi temere il mondo ti verrà contro ti spareranno dardi infuocati i satanisti ti vorranno iniettare il veleno del serpente ma nessun capello del tuo capo sarà torto se Dio non lo permette e qualunque cosa ti accada se ti accade è perché Dio lo ha permesso non temiamo dice il Signore nella sua parola e se tu sei un pastore tu sei nella mano di Dio nella mano dell'agnello alleluia grande responsabilità ma grande benedizione non temere dice il Signore nella sua parola non temere perché tu sei nella mano dell'agnello di Dio tu sei nella mano dell'agnello di Dio tu sei nella mano dell'agnello di Dio alleluia non temere dice il Signore e con forza lo sento dentro il mio cuore e la parola lo conferma la parola è il fondamento non quello che io sento il Signore sgridi il diavolo noi sentiamo certo ma non è il fondamento gloria a Dio quando quello che sentiamo combacia con quello che è scritto benedetto il nome del Padre benedetto il nome del Figlio benedetto il nome dello Spirito Santo viva Cristo alleluia Cristo vive santo all'eterno il Signore sgridi il diavolo adesso entriamo nell'epoca patristica all'angelo al pastore Apocalisse 2 verso 1 all'angelo al pastore al messaggero all'angelo anche se ci sono più pastori ci deve essere uno responsabile dei pastori più anziano e quant'altro c'è sempre uno che è responsabile all'angelo al pastore della chiesa di Efeso scrivi chi è Efeso in che anno siamo nel 90 95 Signore sgridi il diavolo a tutti i gnostici che vanno dicendo che dobbiamo leggere per capire la Bibbia i padri della chiesa perché i padri della chiesa sono stati più vicino alla verità i padri della chiesa sono stati la maggior parte gnostici erano gnostici hanno calpestato la verità perché già all'epoca di Giovanni si erano deviati dalla verità cominciando dalla chiesa di Efeso e chi qual è stato lo strumento per creare la chiesa di Efeso per far nascere la chiesa di Efeso l'apostolo Paolo fatti degli apostoli capitolo 19 l'apostolo Paolo è stato il primo pastore della chiesa di Efeso il primo pastore della chiesa di Efeso Paolo entra in Efeso dove c'era la dea Diana e con 12 persone inizia a lavorare e queste 12 persone avevano creduto e Paolo gli dice avete voi ricevuto lo spirito santo e questi gli rispondono ma noi non sappiamo neanche cos'è lo spirito santo eppure erano nati di nuovo avevano lo spirito di Dio e no che tutti nati di nuovo hanno lo spirito santo come battesimo senza parlare lingue il signore sgridi il diavolo perché scritto è che non tutti parlano lingue già abbiamo risposto a questo quesito tutti quelli che vorranno entrare qui in Italia da Latino America per portare questa dottrina il signore li sgridi io li bloccherò ascoltate Eugenio Masias che cos'è lo spirito santo è il battesimo dello spirito santo il pastore Eugenio Masias lui ve lo spiega bene e non questi ciarlatani avete voi fatti degli apostoli capitolo 19 avete voi ricevuto lo spirito santo non abbiamo neppure sentito parlare dello spirito santo e lui li battezzò prima in acqua poi gli imposto le mani e ricevettero il battesimo dello spirito santo e parlarono lingue nuove se tu non parli lingue nuove tu non hai lo spirito santo come battesimo sei nato di nuovo c'è lo spirito santo sei salvato ma non hai il battesimo e non puoi ambire a nessun ministerio tu tu non avrai mai un ministerio senza il battesimo dello spirito santo dice il signore nella sua parola parlare duro vero Alessio il cafone ebbene sì sarò sempre più cafone se me la chiami cafonaggine e ci fu una grande opera e le potenze dell'inferno si sollevarono e ci fu una grande guerra contro questi due mondi il mondo delle tenebre contro il mondo della luce si sollevarono falsi esorcisti e dovettero scampare a gambe elevate ma poi tanti stregoni si convertirono e bruciarono i loro libri bruciate quei libri ahi di coloro che portano libri gnostici la cabalà libro di enoc l'altro libro che si sta portando in latinoamerica che tutti i libri in mano messi per capire la bibbia il mondo spirituale dicono una marea di aberrazioni perché la bibbia non vi basta più e non sto promuovendo l'ignoranza all'angelo della chiesa di Efeso scrivi queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua mano destra nella destra di Gesù che a sua volta è alla destra del padre si trovano tutti i pastori i pastori sono nella mano destra perché sono controllati sorvegliati protetti e castigati perché Dio verga chi ama il quale cammina in mezzo alle sette candelier d'oro il Signore cammina in mezzo la sua chiesa veglia in mezzo la sua chiesa è in mezzo la sua chiesa non temiamo dice il Signore nella sua parola perché la carne teme camminiamo per lo spirito e crocifiggiamo la carne il mondo è sotto sopra non sappiamo quello che ci faranno milioni di cristiani sono perseguitati vengono uccisi vengono torturati qui in Europa sta iniziando una forte persecuzione contro di noi riempiamoci facciamoci riempire dello spirito di Dio io conosco le tue opere la tua fatica oh le opere sta dicendo che Efeso aveva le opere ma come le opere salvano dicono gli gnostici abbiamo fatto il video signor sgridi il diavolo noi siamo salvati per fede non per opere la chiesa di Efeso dice la parola di Dio era piena di opere eccola nel 90 nel 95 dopo Cristo Paolo era morto Giovanni era in vita già si stava perdendo io conosco che tu hai delle opere la tua sofferenza la tua fatica oh quante opere aveva allora stava a posto e tu non puoi sopportare i malvaggi wow che bella chiesa vero e hai provati coloro che si dicono essere apostoli e non lo sono wow quante cose buone li hai trovati mendaci e hai portato il carico e hai sofferenza hai faticato per il mio nome quante opere aveva coloro che promuovono le opere signori cattolici signori testimoni di Genova signori ignostici signori ex testimoni di Genova figli del diavolo cominciando da Cab e Izebel e tutti i butindarini come loro e non ti sei stancato quante opere ma io sono contro di te dice il Signore io sono contro di te io ho contro di te questo hai lasciato il primo amore hai lasciato il primo amore ricordati onde tu sei scaduto scaduto è una chiesa scaduta la chiesa di Gesù Cristo del 90 95 dopo Cristo scaduta il cui pastore era stato l'apostolo Paolo dopo pochissimi anni scaduta scaduta ai di coloro che predicano i padri della chiesa perché sono stati più vicini all'epoca apostolica e quindi attendibili togliendo la Bibbia quando nella stessa era apostolica con Giovanni in vita dice lo Spirito Santo queste chiese questa non è l'unica sono scadute se all'epoca dell'apostolo Giovanni le chiese erano scadute oggi come siamo ricordati dove dunque sei scaduto e ravvediti e torna alle prime opere ma loro ce ne avevano molte ma torna alle prime opere quali sono le prime opere devi leggere fatti di apostoli capitolo 19 sono opere spirituali infatti capitolo 19 si parla di opere spirituali senza annullare quelle materiali il fondamento è lo Spirito e se non lo fai tosto verrò da te e rimuoverò il tuo candeliere cioè li stava tenendo in vita per un capello si dice e lo rimuoverò dal suo luogo se tu non ti ravvedi tosta la parola di Dio ma tu hai questo che tu odi le opere dei Nicolaiti certo hai un buon sentimento combatti i malvagi combatti l'apostasia menne ma a sua volta tu sei scaduto tu che sgridi l'apostasia tu che combatti l'apostasia agli apostati anche tu sei scaduto non è che mo perché uno si chiama come me Alessio Evangelisti che sgrida gli apostati e l'apostasia non può scadere questo vale per ognuno di noi si può scadere si può perdere la salvezza non date retta alla Chiesa dei Fratelli falsa dottrina che hanno tolto il battesimo dello Spirito Santo Chiesa dei Fratelli Dio vi sgridi Dio vi sgridi Chiesa dei Fratelli Dio vi sgridi ravvedetevi le quali anche io odio chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese a chi vince io gli darò da mangiare dell'albero della vita l'albero è Gesù Cristo la vita è Gesù Cristo la pianticella che doveva venire la radice di sai l'albero rappresenta Cristo che è in mezzo del paradiso del Dio mio viva Cristo parola dura questa domenica parola dura perché l'uomo è carnale e ha bisogno di una parola dura perché il peccato non perdona e la Chiesa sta per essere rapita e se facciamo finta che il Signore rapisse la sua Chiesa stasera facciamo finta è una ipotesi assurda perché nessuno sa il giorno e l'ora ma facciamo finta tu non andresti a dire in giro oh il Signore sta per rapire la sua Chiesa solo perché pensi che ti diranno che sei matto e allora tutti coloro che non parlano del rapimento della Chiesa qui in Italia perché ecco invece all'estero lo fanno in tutto Latino America questo c'è da incomiarli lo fanno e milioni decine di milioni si sono convertiti perché hanno udito parlare del rapimento della Chiesa non nascondiamo il rapimento della Chiesa anche al mondo perché il Signore può rapire la sua Chiesa in qualsiasi momento e dobbiamo essere pronti sia se veniamo chiamati perché moriamo in qualsiasi momento possiamo morire sia se veniamo rapiti il rapimento della Chiesa è oggi questo è il tempo questa è la generazione non sappiamo il giorno l'ora l'anno ma questa è la generazione Luca 21 dal 29 Dio ti benedica con voi come sempre Alessio Evangelisti se il Signore vorrà ci si vedrà al prossimo video programma Shalom